Allora, vedete degli oggetti. Ieri sera, parlando con qualcuno, quando Filippo mi ha presentato come percussionista, qualcuno ha fatto tamburo. No, suono anche il tamburo, ma tutto emette dei suoni. Farò un piccolo percorso, poi ci soffermeremo su delle situazioni nella seconda parte quando ci saranno i laboratori, perciò chi ha voglia di rimanere rimanca e andremo a soddisfare tutte le curiosità. Allora, lavoro con i suoni e incomincerò con i suoni. Allora, ascoltare. Sappiamo ascoltare. Ascoltare significa entrare dentro i suoni. Allora, io incomincerò a usare i miei suoni. Se avete voglia, chiudete gli occhi. Se non avete voglia, guardate. Va bene? Ci sentiamo dopo. E' stato un piacere rivederci. Allora, mi stavo dimenticando una cosa importante, no? In questi giorni ho preso grandi appunti. Il perché io sono qua. Ho preso alcuni appunti che sono, attenzione, non tutti i suoni fanno bene. Dobbiamo trovare tutto quello che serve per il paziente, perciò il benessere, il sorriso, il rimettersi in gioco, anche mettersi qua davanti, in fila. L'altro, ah sì, è uscito anche fuori questa. Una mente negativa non produce benessere. Io sono anche un, oltre a essere, tra virgolette, un portatore di benessere, sono anche un fruitore del benessere. Se io sto male, no? Tutto mi va male. Il mio apparecchio mi danneggia. Ci sarebbe da parlare, no, 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 fermo. Ci sarebbe da parlare da questo strumento, ci tengo. E' del dottore Bosco. Questo è uno dei pochissimi strumenti, è un marmo, è un'arpa di pietra, è un marmo. E' uno dei pochissimi strumenti dove non sempre suona, perché deve entrare in empatia con la pelle. E io in questo momento, lui mi sta guardando. No, no, ma non te lo faccio suonare, non ti preoccupare. Lui mi sta guardando, è il suo. Quando siamo andati a trovare, insieme al maestro Albiani, a provare questi strumenti, tutte e tre abbiamo provato, solo lui suonava. Ma gli suona anche adesso. E io mi metto in gioco perché ho voglia di suonarlo. Le mie maniche stanno dicendo, coraggio Michele che ce la farai, coraggio Michele che ce la farai. Sennò chiamo a Filippo e gli dico, Filippo, vieni qua. Sennò chiamo a Filippo e gli dico, Filippo, vieni qua. Sennò chiamo a Filippo, vieni qua. Sennò chiamo a Filippo. 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 Sennò chiamato. 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 Beati i primi. Sennò chiamato. 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 Allora ripeto. Avete voglia di diventare la mia orchestra? Ok. Allora utilizziamo le gambe. Le vostre. Non le mie perché io ho il tamburo. Perciò se vi fate male. Va bene? Allora riuscite un po' tutti qua a vedermi? Aspetta. Avevo chiesto. Mi. Puoi prendere l'asta che così. Allora. Volevo stupirvi con gli effetti speciali. Ci sto riuscendo. Ok. Allora. Le vostre gambe. Avevo chiesto al dottore Bosco di avere. 200 tamburi così. Ognuno di voi aveva il tamburo. Mi ha detto. Non ci sono i fondi. Ho sempre problemi con i microfono. Allora. Siamo pronti? Allora. Le vostre gambe saranno. I vostri tamburi. Lo faccio semplice. Le mani libere. Dottoressa. Scioltezza. Le mani libere. Ok. Mano sulle gambe. Prima io e poi voi. A guardare di là i miei amici che mi dicono. Michele poi dobbiamo viaggiare insieme e ti lasciamo in qualche posto. Dopo di me. No, no. È facile. È facile. Segui il mio labiale. Va bene? Perfetto. Ora facciamo. Tutto a posto? È difficile? No? Siete belli vedervi di qua questi sorrisi. Due giorni. Ok. Allora c'è da fare. E... Des... Tum... 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 Ok. Vai. Quattro e chiudo. Uno. Due. Tre. Quattro. Ok. Bravissimi. Da questo potete fare qualsiasi cosa. Avete notato che... Tum... Tum... Taa. Sul Taa. Invece di fare così, allargate le braccia suonate sulla spalla destra e sinistra di chi vi sta accanto. Per questo vi volevo vicini. Va bene? Pronti? Sì. Sentitevi liberi di fare. Pronti? Al mio quattro. Se attenti... Tu che hai le braccia lunghe... Tocca a lei. Tanto... Attenzione. Attenzione. Signori, orchestra. Pronta? One. Tre. Four. Larghi. 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 Ok. Il Taa. Ora si tocca la testa. Destra e sinistra. Tum... Taa. Destra e sinistra. Allargare. Ok. Sbizzarritevi. Con le mani. Taa. 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 Quattro e chiudo. Uno. Due. Tre. Quattro. Benissimo. Bravo. Allora, c'è una cosa, in questo momento io sono stato un direttore d'orchestra, vi assicuro che non è semplice stare qua con voi davanti e ho voglia di farvelo provare. Se io dico, no no tranquillo, perché mi guardi tu e mi dici io non voglio venire, vieni qua, allora sarà il mio nuovo, ehi che entusiasmo, guardate che chiunque viene qua non è facile, vero? Vabbè ho parlato con gli occhi invece che con la bocca, l'ho capito, gli occhi mi stanno dicendo tantissime altre cose, ti aspetto fuori, allora ti posso dare la mia orchestra? Oh, che c'entri tu? Allora, ti puoi sedere? Allora, un buon direttore d'orchestra non deve essere bravo, ma deve sapere, ascoltare, capire quali sono le esigenze dell'orchestra. Chiunque è stato qui sopra è stato un direttore dell'orchestra. Mi rivolgo a voi che siete primari, responsabili, siete dei direttori d'orchestra, perciò questo concetto va ovunque. Io ci sto giocando, ma dietro il gioco c'è qualcosa. Ok, dì se l'orchestra tua è pronta. Siete pronti? Allora, fermali. Allora, un buon direttore d'orchestra deve usare il giusto tono di voce. Se dice? Siete pronti? Siete pronti? Sicura, concisa e chiara. Prima tu e poi loro. Siete pronti? Sì! Bravissima, bravissima, bravissima. Chi ha voglia di... Allora, c'è qualcuno che si è messo indietro? Dottoressa? Ti voglio un sacco di bene a te. Puoi venire? No. Allora, senti, quando tu ti sei presa tutti complimenti di qua, complimenti di là, ti sei alzata, hai detto grazie, hai detto... Direttore, puoi venire un attimo? Tanto non mi puoi licenziare perché non sono un vostro dipendente. Sono, no. Non era messo... Filippo, non c'entra niente Filippo, mi assumo tutte le responsabilità. Posso licenziare te, ma posso licenziare Filippo? Ma guarda, a me non mi interessa. Allora, ma non solo, non vedo, nemmeno io. Allora, è da stamattina... Ti puoi sedere, ti puoi sedere. Ma figura, è casa tua. È da stamattina che c'è un... Lui, quello lì con gli occhiali, accanto al dottore Bosco, che... Ehi, è da stamattina che mi dice ma tu puoi suonare su tutto, preparati. Allora, direttore... No, no, sei tu il direttore. Allora, entra in quel contesto del direttore d'orchestra. Allora, fai delle cose... Dì se l'orchestra è pronta. Non affirmo per la privacy, eh. Non accetto i ritassi. Guarda, qua c'è una telecamera che ci sta riprendendo. Non siamo in streaming. Sì, sì, siamo... No, 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 sì. Tanto è la sua faccia, minchia, la mia. Me la sto giocando a tutta, cioè non metterò più piede qua. Guardate cosa faccio per voi, eh. Tanta roba. Allora, dì se la tua orchestra è pronta. Orchestra, siete pronti? Sì. Vai, facciamogliela vedere. Io sono qua. Non in quel senso. Non avevo capito. State facendo voi, mi state stappando. Dai. Dai. Bravissima, ma non è finita qua. Allora, vi chiedo scusa, con lei ci conosciamo, tu mi devi assecontare, sì, ci conosciamo da 15 anni, vero? 15 anni e mezzo. Lei ha studiato percussione con me, vero? Non si può dire di no. Ha una manualità nelle mani incredibile, suona? In che senso lo sappiate? Ah, è chirurgo? Non lo sapevo, eh. Infatti devo dire che le mani si vedevano, eh, che erano le mani esperte. Si sentivano. Allora, ti puoi mettere un po' davanti? Assisterete a una cosa, ma mai successa. Lo dico. Allora, signori, se la prima volta avrà finito di scegliere. Guardate le scegliere. Brava! Poi, siccome sono molte interessate a fare esperienza, quindi cerchiamo poi di economizzare il tempo e fare esperienza poi nei laboratori, eh? Ok? Se no non ti facciamo partire, eh? Ah, ma tanto non c'è. Signori, lui mi ha provocato tutta la giornata. Hai notato mai? E... Tu puoi suonare tutto? Sì. Il lice del naso. Voi siete fortunati che riuscite a vedere il suo sguardo? Io no. Mi dite se soffre tanto? Ma lo dite? Se per caso lui sta male... Muovwnie, Va bene? Sì. Tremendo! E' impi камero. Si fa tocca a te. Sì. E un po' e ambito? con le mani voi andiamo vai ci mettiamo anche la voce prima io grazie 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 per avermi detto vieni o non ho capito perché grazie 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 grazie